Fior Daliso ha espresso la sua opinione riguardo alla conclusione della 17esima edizione del Grande Fratello. Lanciando una frecciatina a Perla Batiero e parlando di Beatrice Luzzi. Volevo che Beatrice Luzzi arrivasse prima, parla ex G. Fina. Frecciatina a Perla Batiero senza mezzi termini. La cantante ha lodato Beatrice Luzzi condividendo il suo pensiero sul percorso della Fior Daliso ha espresso la sua opinione riguardo alla conclusione della 17esima edizione del Grande Fratello. Lanciando una frecciatina a Perla Batiero e parlando di Beatrice Luzzi. Senza mezzi termini. La cantante ha lodato Beatrice Luzzi condividendo il suo pensiero sul percorso della vincitrice. In un'intervista per il settimanale Nuovo TV. Fior Daliso ha fatto un confronto esplicito tra le esperienze vissute da entrambe le sue ex coinquiline. Riguardo alla vittoria. La cantante ha espresso delle riserve. Rivadendo un'opinione già manifestata in precedenza. Marina aveva suggerito al lavatiero di adottare un approccio più concreto e chiaro. Tuttavia, sembrava che le dinamiche legate ai, perletti, avevano infastidito la cantante. E non solo lei, fin dall'inizio. Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata. Nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d'amore. Anche se mi avevano stancato dall'inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia.